Buongiorno a tutti, ogni promessa è debito, ecco il nostro polpettone con i frarielli e quello all'ortolano, eccoci qua Signori, il cotto di stamattina è il nostro roast beef, semplicità e gusto, eccolo qua Signori, si comincia, è uno, è due, è tre, è quattro E cinque Signori, non potevano presentarvi, cioè mi sento come Pippo Baudo a uno dei festival di San Rio Partiamo dal nostro domago, guardate qua, 18 mesi, parliamo di un vitello eccezionale, tenero, bello e con una presenza scenica esagerata Poi passiamo a questa costata di scottona, vedete? Questa veramente non ha arrivato Sapore, tenerezza, il giusto profilo organolettico, il top del top Ecco qua, per chi preferisce la carne maga, perché questa esterna va sempre top Un biffo con filetto vicino centrale, meraviglioso Poi passiamo alla sorella di questa, sempre costata di scottona, sempre organoletticamente parlando Il paradiso Finiamo con questo biffo, che a differenza di questo, ha dieci giorni di frollature in più Quindi parliamo di una carne tenera, come un burro, come quando l'ha mangiata in Toscana che il coltello scivola dentro Ecco, questa è la nostra Toscana Vi ho detto tutto, buona giornata, vi aspettiamo E' da pazzi non comprare le bistecche da noi E' da pazzi E' da pazzi